In piena decadenza, in piena caduta di Roma, si sta sviluppando sulle lagune una civiltà. Una civiltà che ormai comincia a riesprimere dei caratteri propri, probabilmente attingendo a quello che era stato il proprio antico patrimonio. Allora, se così è, io francamente, come tutti coloro che sono abituati a guardare la storia e i suoi ricorsi con occhio disincantato, vedo il ricorrere di alcune condizioni. La crisi della sovranità nazionale, la crisi dello Stato nazionale così come è stato concepito tra la rivoluzione francese e il XIX secolo. La crisi del diritto positivo, cioè quel principio per cui la legge è legge che ha portato il regime nazista ad imporsi sostenendo che era legittimo tutto ciò che era legge scritta. Quindi la crisi di tutta una serie di strutture e sovrastrutture che hanno dato vita, per l'appunto, allo Stato nazionale così come lo conosciamo oggi. Oggi c'è un articolo della Costituzione italiana, l'articolo 5, che dice che la Repubblica è una e indivisibile. E questo cancelletto, questo ostacolo, pare essere l'impedimento ad ogni iniziativa di uno dei popoli italiani che voglia riprendere in mano il proprio destino. Ma allora la riflessione che vorrei fare oggi è una norma liberale, è una norma che possiamo ancora condividere, è una norma pattizia per cui una generazione di italiani nel 1948 ha legato tutte le generazioni future e fino a quando? Fino alla fine del mondo, fino alla fine del tempo? Oppure bisogna cominciare a ripensare a questa struttura, a riflettere liberamente, senza ideologie, senza pregiudizi e cominciare a immaginare un futuro diverso? Il Veneto attualmente ha 21 miliardi di residuo fiscale, come noto il residuo fiscale è la differenza tra quanto il Veneto paga e quanto riceve dallo Stato italiano. 21 miliardi di euro sono un'enormità, sono circa 4.000 euro a cittadino Veneto neonati compresi all'anno, tanto per cominciare a parlare di cifre. L'Italia annaspa in un debito pubblico che ormai si aggira intorno ai 2.168 miliardi di euro. È un debito pubblico che negli ultimi sei mesi ha avuto un balzo di circa 100 miliardi, attenzione, tutti addebitabili all'amministrazione centrale dello Stato. Dopo che più di un governo ha gettato fumo in faccia ai cittadini, colpendo regioni e province come fossero il fuoco del malcostume, come fossero il fuoco dello spreco, si scopre invece che il re è nudo, cioè quello che costa è il carrozzone dello Stato italiano, al quale noi contribuiamo in modo sempre più pesante, pagando tasse che ormai sfiorano l'intollerabile soglia del 67-70%. Abbiamo vicini paesi come l'Austria che invece hanno un IRPEF circa al 24-25%, ma peggio ancora. Qual è il principio di uguaglianza di questo Stato? Abbiamo cittadini di questo Stato, le regioni a statuto speciale, che invece godono di un trattamento economico completamente diverso. Quindi il principio dell'articolo 3 della Costituzione è ampiamente calpestato dalla Costituzione stessa. Attenzione, questo non lo dico in odio o in fastidio agli amici del Sud Tirolo, agli amici trentini. Anzi, io dico che tutti hanno diritto di aspirare a una cosa semplicissima, a governare il proprio territorio e a disporre delle proprie risorse, esattamente come gli amici del Sud Tirolo. Non si comprende come si possa, senza arrossire, sostenere che vi è un articolo 5 che per sempre ci impedirà di immaginare uno Stato diverso e continuare a dire che il principio di uguaglianza è rispettato, di cui è l'articolo 3 della Costituzione, quando all'interno dello stesso Stato ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Cioè tutti i maiali sono uguali, ma alcuni maiali sono più uguali degli altri, come disse Orwell. Grazie.